La Regione torna a discutere della riserva del Borsacchio in commissione. Sono passati nove mesi da quando il Consiglio regionale, approvando un emendamento alla legge di bilancio, ha di fatto tagliato il 98% della riserva, fatto che ha provocato una sollevazione popolare. Della questione Borsacchio, come si ricorderà, fu investito il Governo nazionale, con la richiesta di impugnare la legge davanti alla Corte Costituzionale, cosa evitata dal Presidente Marsilio, con una nota del marzo 2024, con la quale definiva il perimetro ridotto, come provvisorio, impegnandosi a riportare la faccenda in Consiglio. Nove mesi, si diceva, sono passati, ma oggi qualcosa si è mosso, con la convocazione della Commissione per arrivare all'esame delle due proposte di legge presentate, quella della Giunta, che non ripristina i confini originari, ma prevede un sistema diverso di tutela urbanistica, puntando sulla nomina di una Commissione che dovrebbe dichiarare l'area di interesse pubblico, quella delle opposizioni, che continua a chiedere il ripristino dei confini normali. Per il Presidente della Commissione Ambiente, Emiliano Di Matteo, finalmente si torna a parlare della riserva. Loro sono disposti ad ascoltare tutti, ha detto, ma di una riserva non conta la quantità, ma la qualità. Noi intendiamo procedere, aprendo finalmente quella discussione, con il coinvolgimento di tutti gli attori protagonisti, cosa che non è stata fatta, è vero con l'emendamento della scorsa finanziaria, ma non fu fatta nemmeno nel 2005, quando la riserva è stata istituita. Quindi, quel vizio procedurale che si imputa al nostro emendamento è un vizio che la riserva si porta, diciamo, originariamente fin dalla sua istituzione. Questi 9-10 mesi qualcosa comunque hanno insegnato. Hanno insegnato che il territorio non è stato aggredito da nessuna speculazione di inizia, perché le aree agricole, quelle spunte dalla riserva, sono tornate agricole, tra l'altro con tanto divincolo paesaggistico riapposto dalla Giunta. Ci ha insegnato che quest'estate sono state svolte addirittura maggiori attività ambientali rispetto al passato, e questo l'hanno detto le stesse associazioni ambientaliste. Quindi, che cosa voglio dire? Che abbiamo il tempo per fare un ragionamento sereno e finalmente costruttivo sul futuro della riserva del Borsacchio, senza farsi prendere da frenesie o da isterismi, però cominciando a guardare l'ambiente per ciò che è. Cioè, le riserve naturali devono avere le caratteristiche di una riserva e non si misurano in termini quantitativi, ma qualitativi. Questa è la nostra impostazione. Le opposizioni, però, continuano a rimanere molto critiche sulla vicenda. Bisogna ascoltare tutti i portatori di interesse, a cominciare dagli enti locali, e quindi chiediamo di tornare indietro e poi eventualmente aprire una discussione. E nel frattempo il consigliere Dino Pepe annuncia pure di aver presentato una risoluzione per chiedere l'azzeramento dei pedaggi autostradali nel periodo di chiusura del traforo del Gran Sasso. Chiediamo che il Governo centrale, insieme ovviamente alla Giunta regionale, possono intervenire per ridurre o azzerare le tariffe autostradali nel corso dei lavori che inizieranno il 14 ottobre.